Attore, pittore, cavaliere della Repubblica, Salvatore Vingelli in arte Nino Vingelli inizia giovanissimo, a seguito della sua passione per il canto e per il teatro, a calcare i palcoscenici dei teatri della sua città in cui si esibiscono soprattutto compagnie tradizionali in lingua napoletana, si trasferisce a Roma prima della guerra e divulga nei teatri romani la sceneggiata napoletana. Zapatore, Mamma perdonam, la crema napoletana ed altri ancora facendosi così conoscere ed amare dal pubblico dei teatri. Reale, Smeraldo, Principe e Ambra Iovinelli, luoghi dove erano in voga il Varietà e l'Avanspettacolo. Nel 1941 inizia la sua avventura cinematografica e debutta come caratterista nella pellicola I. Mariti, Tempesta d'Anime, di Camillo Mastro V, tratta dalla commedia ottocentesca I Mariti. Di Achille Torelli. Ma sarà il ruolo di Pasqualino XVII nel film di Luigi Zampa Processo alla città. 1952, a portargli una certa notorietà? Prese parte a più di 200 film, recitando al fianco di Totò, Nino Taranto, Alberto Sordi, Renato Salvatori, Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Enzo Turco, Peppino De Filippo, Edoardo De Filippo, Gina Lolo Brigida, Titina De Filippo, e molti altri che facevano parte di quel periodo ruggente del cinema italiano negli anni 50-60. Nel 1967 ritorna al teatro interpretando lo ruolo di Napoleone e botta nell'Il contratto di Edoardo De Filippo. Gli anni 50 restano comunque i suoi anni migliori dal punto di vista artistico. Coronati dall'aggiudicazione del nastro d'argento al miglior attore non protagonista per il film, La sfida nel 1959 interpreta il convincentissimo guappo sotto la direzione di Francesco Rosi che, l'anno successivo lo dirige nuovamente nei panni dell'intrigante piazzista dei Magliari. In questi anni, spinto dai suoi amici pittori Guttuso, Omiccioli, Vangelli, De Chirico e tanti altri, iniziò anche a dipingere. La sua lunghissima carriera prosegue anche in campo internazionale e Jules Dassin lo vuole accanto ad Yves Montan nel ruolo di pizzaccio nel film La Legge. Recita in Matrimonio alla Francese un film francese ambientato a Nanti insieme a Jean Gabine. Michel Mercer, nel 1964 interpreta il ruolo di Amalfitano il soldato Guastafeste in italiani Brava gente di Giuseppe De Santis. Col passare del tempo Vangelli inizia anche ad interpretare alcuni ruoli in sceneggiati televisivi, tra cui l'alfiere del 1956, continuando a recitare fino alla soglia dei 90 anni. Nel 1975 Giovanni Leone, presidente della Repubblica, assieme a Aldo Moro conferiscono a Nino Vangelli l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Muore a Roma il 26 marzo del 2003.